Un film di Matteo Garrone, il regista di Gomorra e Pinocchio. Amore, bello! Vuoi biscottino? Guardate, un'altra volta! Questo è un cane sciolto, prima o poi qualcuno l'ammazza. Però la soluzione va a trovare. Simone! Che ti sei messo in testa? Gli levamo tutto. Simone, cos'è quanto è impiegato a fare tutto questo? Uno a te, bravo così, e uno a me. Per il ciclo Italian Crime Stories. Amore! Dogman, sabato alle 21.20, Rai 4.